Buongiorno e buonasera, qui c'è Yoshi e siamo in una puntata di Fire Emblem Segestones L'ultima volta abbiamo dovuto metterci a salvare Erika perché è messa piuttosto male Come situazione, intendo Siamo assaltati dai Pegasi e... Ehm... Hai voluto organizzarmi meglio Quella spada d'acciaio, beh Mi ammazza la Void, cavolo Potevo organizzarmi meglio, spero di non doverlo resettare Allora, per il momento salviamo Dobbiamo far correre il turno, vediamo che succede Intanto i primidoni, d'accordo Demoliti dall'or... Stavo per dire, demoliti dal rompispada ma ho mancato un 86 perché ovviamente manca un 86 Tu non mi colpisci No, infatti Dovevi crittare? No, dai Che brutto turno Avrei preferito che non crittasse Mi saltano addosso ai Pegasi, no, che merda Oh, scrivo lo stesso Perché la spada d'acciaio può uccidere? Ok Ehm... Aver mancato mi aiuta Aver mancato mi aiuta Sono contento Allora, è dura che mi colpiscano E sicuramente verranno annientate da sale Quindi va bene Bang Sì, adesso sale è un po' irrilevante Quella esperienza che guadagna, quindi Tanto il giavellotto andrà addosso a Derek è sicuro Dopodiché dovrò cercare di... Combinare qualcosa Eccolo Adesso è Iwan, eh D'accordo Si vede che voleva fare danno Beh, questo è ovvio come va a finire Quindi... Facciamo un pochino di fast forward Il paladino? Aia Beh, giavellotti... Ok Gestibili Eh, non sto aggredendo il paladino Perché? Strano Ehm... Vabbè, comunque Beh Non importa quali uccidiamo Te, per favore Fatevi pensare Prima di fare questa cosa Lancia d'acciaio Preferirei avere più possibilità di schivare Tutto ne sta Mi curo Ines E non mi va davvero di buttare l'arco d'argento Non su questi tizi Quello è il punto Spero che vorranno far danno a Erika Perché non ha tanta difesa Ehm... Puoi colpire ora? Grazie Oh Ehm... Vediamo Colm Tu che mi dici? Fatemi controllare l'immaginina Ok Se vado di là Se vado in questa zona Trovo qualcosa di buono per l'ute Ehm... Voi altri Fate quello che volete Sono i pegasi alla fine Poco altro da dire Sono i pegasi Questi due si schiantano su sale E che tra un po' dovrò avere a che fare con dei giavellotti Quasi quasi porto Tana qui Così posso gestire i giavellotti almeno Ehm... Per il resto Beh... Non ho una gran fretta Quindi passiamo Ancora manco Ma veramente? Questa cosa è un po' irritante Erika ancora... Ancora... Che manca la gente Che manca la gente Volevo dire che manca le statistiche importanti Se mi colpisci Mi incazzo Grazie Ok Ehm... Non stanno venendo fuori altri pegasi Perciò Ehm... Diciamo che Posso usare un colpo di Arco d'argento per questo E posso sussidere l'altra contana C'è un emporio qui Vorrei visitarlo C'è un altro per comprare un guenti Non sarebbe male Ehm... Rompi spada Per favore muori Grazie Ehm... Non posso muovermi abbastanza avanti Voglio dare esperienza a Lara che... Anello corpo Molto bene Ehm... Posso mettere via l'arco letale direi Dute Vienitela a prendere E usalo subito Adesso posso usare tuono Senza essere rallentato E la cosa Mi... Mi piace Mi piace tantissimo Ehm... Voi tre siete a posto Davvero Sono qua che aspetto per il paladino Che non sta venendo fuori Che non ho voglia di venire Di venire Aggroato Quindi non saprei proprio dire Cosa sta succedendo Se io muovo qui Jeric Posso prepararmi anche A uccidere l'altro Ranger Che non sarebbe male Ehm... Per intanto Passiamo Tu non mi colpisci Va bene Eccolo Aia Tu invece quanto hai? 16 anche te D'accordo Vediamo se un critico uccide Jeric Ah Niente critico Però un livello Livelli Livelli di merda Come sempre Prima devo vedere se Iguan colpisce Buttiamolo fuori dalla fortezza Vediamo che succede Ok Jeric per favore Molto bene Non credo di aver Di aver provocato le viverne No non mi sembra Ok Ehm... Colma Può uscire Vediamo Ancora una volta controllo Velocemente La più vicina È la Staffa silenzio Sulla sinistra E poi la staffa Per il trattasporti Direi Ok questi tre Dicevamo Devo Allora Tanto per dirne una Tu puoi prendere questo Minterti qui Ehm... Prepararti ad accogliere i tizi Direi Spada d'acciaio doppia Tutti e tre Si va di si Bene Ah tanto vale a tirarli Eh non ti ha detto uno solo Ehm... Continuo l'emporio Divinità Molto bene Cazzo se pesano Pesano tantissimo Questo si che mi discoraggia Dal prenderne altre Divinità Mi sa che Non è il caso Pesa troppo E non Non ci cavo niente Ehm... Fulguri No sapete che c'è Prima di fare Compere C'è un buon motivo per aspettare Diciamo Sale Tu puoi venire di qua Dana Puoi prepararti ad accogliere gli sciamani Presumo Ehm... Voi altri Fate quello che volete C'è uno spezzascia forse No pesa 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 No 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 Dovrei mandare qualcuno Che sa usare spade Ebbene Ehm... Beh Come sempre Non ho fretta Quindi aspettiamo Primo tizio Riesce a colpirmi Certo che mi riesce a colpire Oh E' vero Loro Loro Avete roba da rubare Non mi ricordo C'è un elisir Ma non me ne frega niente Dai Allora Sono tentato di fare Spada d'acciaio Stare qui Far avanzare tutti gli altri Perché Per il resto Non mi può fegare di meno E' che non voglio provocare Il paladino Vuole viverne Se per questo Oh Grazie della difesa Sto è Sì Sicuramente sta provocando Le viverne Così non posso Non posso Non posso Non posso Non posso No Tadis deve svignarcela Ehi fretta Che faccio Le provoco Se mi infilo In un certo punto Posso infilarmi Nella fortezza E provocare un po' di viverne Credo sia una buona idea Dai Facciamo questo A questo punto Dei maghi Non me ne importa niente Nel senso che C'è Sono proprio Irrilevanti Potrei prendere Dana A fare spezzascia Per essere sicuro Cazzo Se levano Così questi due No Questi due Non mi venneranno Anche addosso No 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 Allora È più conveniente Fare Giavellotti Maggiorno di sì Vediamo di attirare Almeno un flusso Voi altri Beh È rilevante Cosa fate Mi libero di voi E basta Ok Oh è vero C'è Framely Non vorrei mai Hai un gevellotto tu Hai un'asta Beh posso rimanere Parcheggiato qui Con un'asta E magari Discoraggiarli Dall'attaccarmi Vediamo cosa succede Tutti gli altri Non possono raggiungermi E per lo più Andranno ad osservare Jeric Presumo Con una spada d'acciaio Vediamo come va Ok Vediamo com'è Tu muori Hai Tu mi colpisci Oh Le prime giverne Si sono mosse No Merda Non è molto comodo Tu muori Eccolo Mamma mia Credo di doppiare Strano Conventissimo di doppiare Eclissi Irrilevante Completamente Ok Allora I maghi Non voglio Di veniremi addosso Cazzo Ok Questo è un problema E' pieno di viverne E questo tizio Per qualche ragione Non l'ho doppiato Non capisco perché Ah perché lo doppio ora Oh Ecco perché Ok allora Ecco quello che facciamo Mi libero Della Della Diverna Dopodiché Faccio danza Per Tethys Cazzarola Però Sono messo male Nel senso che Tethys viene Viene presa La caccia in culo Se non sto attento Ma il paladino Deve andarsene E che se ne vada Magari posso contare Sul fatto che Iwan ha meno difesa E quindi avranno più voglia Di assaltare addosso a lui Preghiamo Non so Che proprio dire Wow Questo flusso Si sta spaccando Molto in fretta Ehi Non ti incantare Che non è ancora ora Spada di ferro Vediamo Posso dare esperienza A qualcuno di rilevante Scopriamolo Fulgore No Fulgore in doppia Non volevo Dockritarlo Però Cazzo Ehm Beh Vediamo se muori Spero che muori Oh yeah Un bel proc Di velocità Di forza e difesa Mi piace Tu stai pure qui Te li puoi gestire tranquillo Ehm Nel frattempo Innes Comprami un Un paio di unguenti Ah dicevamo Devo portare La staffa là In vicina Devo provocare questi Probabilmente Ok Provochiamo un po' di gente Immagino Vigir Ho delle buone chance Vediamo come va Ehm Vediamo cosa fanno le viverne Come va una data Tethys Oh Schivata Eh Esistenza Potevi fare di meglio Ewan Au Eclissi Non mi frega niente Ok Vediamo quanta gente riesco a uccidere Hmm Tu devi scomparire Gradirei Ehm Poi se danzo Per Iwan E lo porto qui Incenerisco questo tizio Ok Sembra una buona gestione Del 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 Devo spazio Quanta gente morta Sono pochi rimasti eh Ok tu muori Tu Vatti a prendere un elisir Presumo Tanto vale a liberare uno spazio Giusto per Ehm Ah dicevamo E che non voglio avvicinarmi Finchè Finchè questo coso Non è morto Che poi posso girare Liberamente E uccidere la gente Ehm Vatti a divertire Cormag Che vuoi che ti dica Usa Boh Non non c'è l'età eh Giusto per Ehm Finalmente andiamo a esperienza All'aracle Ehm Vediamo C'è poco altro da fare Dovrò fare un po' Un po' di salti Sicuramente un po' di salti In giro eh Probabile Ehm Aspettiamo Con cosa mi ha preso Potevamo evitare Posso ammazzare sto tizio Per favore Grazie Rimedio Ok niente curatori almeno Sì adesso Ehm Chiaramente non lo mando Contro Contro Walter Ehm È veramente troppo presto Per mandarlo contro Walter Però Ehm Allora Ok adesso puoi venire qua Infine qui Erika Per favore Così ti curo Ok Devo decidere Chi uccide Selak Hm Non so neanche se con Erika Faccio danno C'è 18 di difesa Erika non fa danno Cribio Boh No se faccio un ascia letale Con l'ascia d'argento Mi doppia Non posso davvero Posso provare a fare furbo un po' di Con un po' di spezzascia Non Non ha buone chance E posso farmare un po' di esperienza con danno almeno Però devo liberarmi del sciamano prima Per fare questo Ehm Scure Non lo doppio nemmeno Ma non so neanche Magari Magari lo uccido Non lo so Vediamo Ehm Boh Voi altri fate quello che volete A questo punto si tratta solo di ripulire Eclissi è irrilevante Eclissi è irrilevante Oh velocità bravo Bravo Ehm Adesso Se io vado qui Con il supporto di airframe forse sarebbe meglio Sto pensando Mettiamolo più su Ehm Qui dovrebbe andare No non hai dei supporti Nel frattempo Boh Cioè io le discussioni non le faccio Nel senso che Non ne vale la pena Ma vedi Le chance sono buone E' dura che mi colpisca Io ce la parcheggio qui Oh Ok Comodo De trasporto Silenzio Adesso Cormag Lo porterà un po' in giro Per prendere tutto il resto Ehm Come ottenere l'Ascia Drago adesso Però Quello è il problema Non ho nessuno di particolarmente forte Che possa Sistemare la cosa Ehm E non voglio tirare lo sciamano Appena finisce Eclissi Devo Devo regolarmi un attimo Perché Voglio liberarmi delle viverne E cercare di prendere quella Ascia Drago Sarà veramente la cosa più difficile da prendere In questo capitolo Eclissi Pi' rilevante come sempre Ok Come vuoi Cominciamo bene Già mi scrivi Possiamo evitare Per favore Ehm Devo controllare Allora Warp l'ho preso Slayer Devo portarlo dall'altra parte della mappa Le balle Ci vorrà un po' Ok Ehm Devo pensare un piano per ottenere La Lascia Drago E' l'unica cosa che mi serve Sto pensando che mi servirà sia Innes che Sale Che qualcun'altro Saranno in tre Probabilmente Che poi a dirla tutta mi servirà bene Cioè Mi serve Jeric Quassù Sicuramente Ok Questo tizio Non ha più luna Quindi Devo Muormi Sposto Iwan In un posto buono Dove posso trovare Qualche di Viverna Forse Puoi farlo promuovere Se riesco Oltretutto Ok Ehm Andiamo avanti Immagino Mancato Sì Mi tocca una volta Non mi fa neanche male Magia Bene 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 Ehm Voi due Non intendo rischiarla In modo stupido Se possibile Ehm Hm Se io porto Colm Fino Tornatimo pensando Non so Non so neanche se Colm Riesce ad Ad attrarlo Cioè Ad attrarlo sicuramente Però Se avrei una spezzascia Perché Nascia Drago Mi ammazza Sicuro Come un inferno Ehm Passiamo Immagino Si rigenera del tutto? Davvero? Ok Così non si risolverà niente In questo caso Dovrò organizzarmi Liberiamoci Liberiamoci A questo punto Se io ti passo in un guento Minosferatu Fluss E un guento Voglio dire Ok Beh Diamanti così Come Misciotti Ma veramente? Madonna L'ho sottovalutata La viverna Che palle Che palle Che palle Che palle No 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 Faffunculo Per una roba del genere Mi rifiuto Piuttosto riggo Non mi fiega niente Ha fatto esattamente Quello che volevo Che facesse Fantastico Ok Vediamo di Ottenere quella Quella Scia drago No Che scemo Dovevo farlo cambiare Alla scure Che pirla Eh no Amica bene Ok Facciamo in un altro modo Allora Ehm Devo attirarlo Con core Mag Effettivamente Così dovrebbe Avere voglia Di buttare fuori A scure No Che scemo È vero Sbagliato io Ok Vediamo Ancora vai Addosso al sale Ma perché Cavolo Voglio quell'ascia drago Ok Ok Tutti quanti via Vediamo che succede Si allontano tutti Succede che mi prendi lo stesso Ma cazzo Dovevi vedere un attimo Come si comporta Sto berserker Voglio che lascia drago Non mi fai niente Se posso Che posso Counterarti Dovrei pur Cambiare la scure Per me Bene Infatti perché dovrebbe fare Qualunque altra cosa Per forza Tieni vicino Efra Per favore Ok Perché mi raggiunge A prescindere Non importa dove scappo E tuttavia Però Posso forse costringerlo A cambiare la scura In questo modo E vai Solo che poi Devo portare un po' di gente A far fuori Eh Erika forse combina qualcosa Voglio quell'ascia drago Ma fai niente Fai niente Colm via però Perché non lo voglio portare Da quella Ok Oh scusate ragazzi È una cosa un po' Incasinata adesso Però Ok È cambiata la scure Adesso posso Uccidere con qualcuno Magari Ross Serve bello Ross Cazzo Cazzo Puoi fare qualcosa di buono Nella tua vita Forse quello Non è una malunica Serve figo Vediamo Non posso usarla Oh porca Oh porca merda Beh E adesso come cazzo Lo uccido Pregare che colpisca un giavellotto Davvero una merda Vabbè Ha colpito il giavellotto Immagino che funzioni Pascia drago Yeeeh Ok Adesso posso Continuare a girare in giro Con colm A questo punto Credo che Cercherò di trovare un modo Di ammazzare Selak Ci vorrà un po' E Dopodiché Torno subito Raccoglierò gli altri oggetti Off screen Perché sto già perdendo Abbastanza tempo Torno tra poco Ok Ho preso tutto quanto Direi Ho ammazzato il tizio Con la scia demonioca Rubato l'anello guida Ehm Mostro brevemente Quello che ho ottenuto Direi Allora Che c'è da Tu Il biglietto d'argento Carta speciale Che dimenzia il costo Di tutti gli strumenti In altre parole Se vado a comprare Dari negozi Ehm Tipo questo O dalle armerie Ehm Tutto quello che sarà In vendita Sarà dimezzato di costo Si trova qua sopra È un oggetto piuttosto importante E quindi Ehm Teniamone conto Ehm Che altro ho preso Vediamo Sostegno con chi Scusami Ah Dana Va bene Volevo mostrare almeno cosa ho preso Almeno voglio mostrare Rifornimento Rifornimento Ehm Rumpi spada Ok Allora Ehm Silenzio l'ho già mostrato Eclissi Era in basso a destra E Cos'altro ho preso Vediamo Il Tom Ah eccolo là Tomometis Una piccola sorpresa Per l'unità Che lo utilizza Ehm Serve ad aumentare Le Le Percentuali di crescita Di una certa unità Del 5% Per ogni singola statistica Su gente come l'Arachel Voglio provare a usarlo Voglio provare ad avere Una l'Arachel decente Prima della fine del gioco Questo l'avevo già menzionato A questo punto Non rimane che Promuovere Tana Ecco cosa Non rimane che fare Allora Frustelisia Vediamo Ehm Ho già un errore Viverna E Tana non ha fatto Molta forza In questo In questo LP Perciò direi che Per questo giro Lo faccio andare Falco Anche se di solito Lo faccio andare Erovi Verna Guadagna un po' Di forza Cioè Non mi piace tantissimo Falco Nel senso che Il cap della forza È basso È tipo 23 Però C'è poco da fare Diciamo Togliamoci di mezzo Le conversazioni Incora una volta Come vedete Non rimane che Ehm Sistemare Alcune cose Qui Io trovo Un modo Per ammazzare Walter Senza Troppi problemi Hm Da parte mia Qua il problema Sta nel Nel suo rango S E nella Sua lancia letale Se fado Col critico Mi fa un culo Credo che farò Un'ulteriore pausa Per portare In giro La gente E cercare Di Fare Dare Esperienza Tutta l'esperienza Necessaria Per far promuovere Ross E Possibilmente Chi altro Non lo so E possibilmente Dare una Kill a Iwan Direi Sì Sembra una buona idea Lo faccio a screen Quindi Datemi un secondo Ok Ho formulato un piano Per Uccidere Walter E Selak Ehm Allora Ha 48 HP Walter Per cui riguarda Walter Intendo Parcheggiare Colm qui Finché non E con degli Elisir Vedete lì L'elisir Finché non colpisce Ehm Un 2 HP Doveva essere No a dire vero No si Deve essere Per fatto così Ehm Finché non colpisce Una volta E portarla a 46 Dopodiché Ho passato La Shadrago a Ross Come vedete Shotta Però ha una percentuale Di 65 E viene doppiato E viene doppiato Quindi Ehm Non è completamente Sicura Questa strategia Purtroppo Però E' il meglio Che mi è venuto in mente Perché volevo Volevo Provare a far promuovere Iwan e Ross In questo capitolo Per quello da Ross Invece Quello che faremo Sarà essenzialmente Ehm Intanto provare ad abusare Di Di Selak Dopodiché cercare di ammazzarlo Con tutte le unità magiche Che ho a disposizione Ne ho tipo 4 lì E quindi Non dovrebbe essere un problema Voglio solo Abusare un pochino di lui Finchè Iwan non arriva al 19 E Poi Farlo uccidere da Iwan Appunto E Si C'è poco altro da dire Insomma Ehm E portare entrambi ieri al 20 In questo modo Perciò Ehm Vediamo come va Intanto parcheggio qui colma Uh La malpena non mi ammazza Sì ok Molto bene Da questa parte è andata piuttosto bene Ehm Se non funziona Rigo Ok Il primo colpo è andato Fantastico Ho ottenuto lo scudo fili Portato a Ross al 20 Posso promuoverlo adesso Inutile dire che andrò per Berserker Così guadagnia di velocità per favore Qualcosa di velocità Adesso non rimane che portarlo alla S E poi divertirsi con Garma Hehehe Bene il primo è andato Il primo Il primo Cosa è andato piuttosto bene Adesso Ehm Credo che prenderò Questo anello guida Allora da questa Sicuramente mi servono i rimedi Per curare Iwan Perché una cura Sicuramente non è sufficiente Ehm Per questo Probabilmente È una buona idea Fare una cosa del tipo Prendere un rimedio da qui Passarlo all'Arakel Così si fa una bella barca di esperienza anche lei Ok andiamo avanti Mancato Mancato Ok Sì a questo punto È praticamente Un abuso di Selak È tutto quello che è È stato colpito Va bene Rimedio E andrò avanti così Ehm Vi rivedrò tra poco Quando Sto per Quando starò per uccidere Selak Ci rivediamo tra poco Ok Ho portato Iwan al 19 Ho preso un livello di merda Per parentesi Ehm Preso Molto bene Un eccellente modo per concludere Bravo Iwan Difersi di Oplon Vediamo Siamo riusciti a prendere tutto Meno male Le reliquie di Gianna Aha Odulma Excalibur soprattutto Sarà divertente Oh L'origine Ismaire è morta Peccato Rekt Odulma Excalibur Controlliamola velocemente Il peso È buono Sicuramente La do a Jeric Questa qua Se la tira su E tira sberlone A destra E manca Da resistenza Più 5 Come vedete Dopodiché Abbiamo Excalibur Piuttosto pesante Però da velocità Per mitigare un attimo Quella Quella Critico Preciso E poco altro Da dire direi Bene Bene Sì Bene Sì 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 Cambia pure il tono Non dico nulla Perché è seria È seria Sta cosa Sì 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 Jay? Sì, esatto Sì, bene Sarà divertente quando potremo utilizzare Mir Comunque, direi che per il momento abbiamo concluso Perciò, grazie di avermi seguito Io sono Shadow Yoshi, se vi è piaciuto, se volete vedere di più Lasciate un commento, mettete mi piace O iscrivetevi al mio canale Santa Maria 40 minuti 350 mega Detto questo, però abbiamo concluso Perciò, ci vediamo come sempre in un prossimo video Bella!